E sono con i tre vincitori del side event, il terzo classificato Baciglieri Ilario, il secondo classificato Pennacchia Adrea ed il primo classificato il vincitore colui che si è fatto portare fortuna da un pesce maiale, Valotto Simone, evviva! Davvero, non so cosa dire, è stata una meraviglia di torneo, devo riconfermare che è one chip, one chair, il primo day mi sono trovato con due bui, raddoppiato, poi triplicato e poi è stato il day 2 che mi ha consacrato, il tavolo finale sei eliminati fatti da me, è stata una corsa verso il primo premio. Merito del pesce? Decisamente. Che ti ha regalato un tuo amico, raccontacelo. Diciamo che siamo tre amici che giocano sempre assieme, ci consideriamo un team, il capitano si è presentato con il regalino di Natale per gli altri due stamattina e è diventato il porta fortuna per tutto il torneo del day 2. E tu ti sei fatto sconfiggere da un pesce, scusami. Sì, mi ha distrutto, sì sì. No, complimenti al vincitore, ma niente, sono contento. Punto e basta. Punto e basta. Il terzo classificato è vero che ambivi di più alla targa che al premio in denaro? Perché mi piaceva almeno qualcosa da mettere in camera mia che è un po' vuota, almeno adesso ho quella lì che è bella, bellissima. Quanti anni hai? Io sono dell'88, 24 anni. E quanto tempo è che giochi a poker? Ma gioco un po' così al computer, prevalentemente online e comunque questo è il primo live importante che faccio e sono contento di aver ottenuto un piazzamento molto buono. Un piazzamento d'onore direi. Assolutamente. E allora un bellissimo applauso ai tre vincitori del side event. Avete sentito quanti? Complimenti al dealer. Sì, tanta pazienza, bravi. E i concorrenti invece del tavolo? No, no, tutti bravi, tutti bravi. Nessun complimento? No, no, tutti bravi. Voi avete da fare qualche complimento agli altri giocatori? Se posso citazione d'onore a Cecilia Pescaglini che chiaramente ha tenuto alto il tono del tavolo per tutto il tavolo finale. È stato magnifico. Chi l'ha eliminata di voi tre da Pescaglini? Tu? Io, io. K10 contro K9. E allora questi sono i tre simpaticissimi vincitori del side event. Ancora applausi per loro. Grazie. Grazie. Grazie.